Liberty e giapponismo, arte a Palermo tra 800 e 900 è il titolo del volume della storica dell'arte Daniela Brignone, appena pubblicato da Silvana Editoriale. Il testo esamina il movimento del Liberty a Palermo da un inedito punto di vista. I rapporti con il giapponismo e in particolare l'influenza che quest'ultimo ha prodotto sugli artisti e sugli architetti Ernesto Basile, Roccolentini, Ettore De Maria, Bergler, tra gli altri che hanno operato a Palermo nel periodo a cavallo fra 800 e 900 fondando le radici nella tradizione ukiyo-e di cui racconta le suggestioni e le sperimentazioni. Daniela Brignone, la cui ricerca è volte principalmente ai movimenti internazionali del XIX e XX secolo ed in particolare a Liberty, studia da molti anni i rapporti tra questo e il giapponismo analizzando per la prima volta e portando all'attenzione gli stretti legami tra i due movimenti in Sicilia e le testimonianze presenti sul territorio generati da un tale sincretismo. Il giapponismo è un fenomeno che a partire dal 1854, anno in cui il paese nipponico apre le porte all'Occidente, coinvolge artisti, collezionisti, studiosi, commettenti di ogni ceto sociale, soppiantando il gusto per le cineserie che nel 1700 era diventato di gran moda e che a Palermo ha generato capolavori come la palazzina cinese. Non si tratta però di un'emulazione. L'Occidente, cercando un nuovo modo di trattare con la natura, intende apportare nuova linfa ad una produzione artistica ormai priva di idee innovative, servendosi di spunti e motivi presi in prestito e rielaborati dall'arte orientale e in particolare da quella giapponese. Il volume ricostruisce inoltre le atmosfere di un'epoca, delineandone i rapporti con il teatro, la musica e la letteratura, evidenziando l'apporto giapponese nell'arte e nell'architettura Liberty della città siciliana, attraverso i personaggi, le relazioni, le tecniche e i simbolismi.